Io sono maresciallo del Ducca, non sono veneto, sono nato nella provincia di Salerno. Dal 1961 che sono diventato cuore alpino. Il 25 aprile non si può dimenticare, è la liberazione della seconda guerra mondiale. Parecchi si rifugiavano in Cimagrappa perché c'erano i rifugi della prima guerra mondiale. Il Grappa si chiamava Ardosa perché è altamente arido e quindi da arido, aridosa, ardosa. Prima di arrivare all'ossario, in Grappa, sulla destra c'è il monumento a partigiano. Quel suolo è sacro alla patria. Sapete sotto cosa ci sono? Ci sono ancora le gallerie che sono inesplorate, naturalmente. La canzone del Grappa è scritta dal generale De Bono, comandante del nono corpo d'armata. Naturalmente perché? Perché ha visto su una casa scritto Montegrappa, tu sero e mio padre. Ed ecco la canzone del Montegrappa. Il cappello per un alpino è tutto. Il cappello c'è il sudore, c'è il lavoro, si dorme sul cappello, si beve sul cappello. Pensate, si beve in montagna, si fa così e si beve se non c'è la tazzina. Ecco, il cappello è tutto per un alpino. Come dicevo prima, la penna è simbolo di libertà perché la penna d'aquila, naturalmente l'aquila è un uccello libero. Quei ragazzi che sono soppolti lì, come ho detto prima, volevano che l'Italia fosse migliore. Grazie a tutti.